E' arrivato il tempo di tirare le somme sul campionato di Lega Pro, in particolare sui casi Covid finora presentatosi nel terzo campionato professionistico italiano. Come scritto da Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, finora sono stati 390 i casi di cui il 45% di questo dato è riconducibile in 9 squadre e solo 10 società su 59 sono state risparmiate finora dal coronavirus, un dato che ben evidenzia la problematica del virus nel campionato di Serie C. Aspetto da non trascurare il numero di tamponi effettuato, pari a 75.827, mentre sono 19.000 i test sierologici finora condotti su 2.646 persone. Un dato impressionante, un calcolo veloce ci porta a comprendere finora che le società di Lega Pro hanno speso circa 5 milioni di euro, una cifra che non può far nient'altro che crescere. Soldi che escono dai club senza più farvi ritorno, aumentando le problematiche finanziarie per singoli club. Nessuno, finora, dai campionati di vertice ha immaginato un fondo di sussistenza per le piccole società, come invece fatto in Inghilterra. Tornando sul fronte epidemico, Binda sottolinea come nella fase di campionato ci fossero stati solo 31 casi nel campionato di Lega Pro, cavalcando proprio l'andamento italiano che tra agosto e settembre ha visto l'ascesa nuovamente del virus. Dal 25 settembre al 30 novembre, al contrario, i casi registrati sono 390, di cui 73 solo nel girone B, il meno colpito. A incidere sul dato sicuramente sono i 9 cluster, di cui 5 solo nel girone C, finora riscontrate nel campionato di Serie C, che hanno coinvolto in media almeno 10 giocatori. Il tutto è avvenuto tra fine ottobre e inizio novembre, con il numero di gare rinviato più alto della stagione. Ed è proprio questo dato che aveva fatto paventare la possibilità di uno stop del campionato, fino a quando il dato epidemiologico non si sia arrestato. Insomma, il campionato di Lega Pro finora detiene il record più alto di contagio nel calcio professionistico. Ovviamente il tutto è viziato anche dal numero di squadre partecipanti al torneo di Lega Pro.